Siamo sulla spiaggia Vitali, quella attrezzata, siamo sulla parte più verso nord, pensando che fosse più riparata dal piccolo vento che c'è, quindi c'è la roccia, acqua trasparentissima, azzurra, di un bel azzurro, come di là, d'altronde, i sassi sono belli chiari. L'acqua da questo lato, stranamente, nonostante sia più vetuto dal vento, è più calda rispetto al lato ovest dell'isola. Questa è il parcheggio, spiaggia attrezzata, un po' di spiaggia libera là in fondo. E acqua bella, azzurra, trasparente, qui di fronte a noi. La ragazza che si butta, troppo lontana per chi vorrebbe l'altra. Grazie a tutti.